sa prova microfono provando il microfono prova microfono provando il microfono prova 123 sa prova microfono ok eccoci qua allora mettiamolo un pochino sa allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti felice di tornare nuovamente con voi a un nuovo appuntamento benissimo allora questa mattina interrompiamo un po tutte le serie che abbiamo in piedi quante serie abbiamo in piedi diverse diverse serie allora dobbiamo finire quella dell'importanza della salvezza poi dobbiamo finire naval e poi dobbiamo finire giacomo quindi abbiamo queste tre serie che con l'aiuto di dio pian pianino porteremo a conclusione e poi ho intenzione di fare un secondo video per quanto riguarda la figura di elia che è una figura molto importante ciò la questa va e viene l'audio non se ne può più devo risolvere il problema ma ci vorrà del tempo allora ho intenzione di fare un secondo video sulla figura di elia perché è molto importante perché elia è una figura altamente profetica e che profetizza delle cose veramente importanti molto importanti e ci dà il quadro esatto di quello che succederà alla chiesa di gesù cristo sottolinea questo termine e anche al mondo di conseguenza alla fine dei tempi previo rapimento della chiesa a questo ci dobbiamo aggiungere matteo 25 per capire quello che ci aspetta nei prossimi giorni se ci saranno previo rapimento della chiesa insomma sono sono argomenti molto importanti va bene diciamo questo è quello che noi abbiamo nel cuore poi se dio vorrà se ci sarà un domani se staremo ancora in vita perché non è un pur parler dire se staremo ancora in vita perché nessuno può dire domani mi alzerò stanno morendo una marea di fratelli cominciando da ministeriati a non ministeriati pastori e quant'altro ok quindi proprio proprio stanno partendo alla grande e quindi chi può dire farò questo farò quest'altro no e no se dio vorrà e noi leggiamo le cose nella parola di dio ma attenzione che dobbiamo farle nostre poi quando ti passano davanti i treni cominci a capire come la c'è un conto è leggere le cose un conto poi a passarci tu un conto è leggere che gli apostoli e molti altri venivano lapidati venivano battuti è un conto che te lapidano a te o che te battono ieri sera stavo sentendo uno studio molto interessante stavo partecipando a uno studio molto interessante sulla parola di dio e appunto il predicatore diceva vedete scritto è che il signore mi liberò da tutte no è scritto in timotio secondo timotio paolo dice il signore mi liberò da tutte le persecuzioni interessante dio ci libera da tutte le persecuzioni vero dice sì alessio è vero a me così è scritto però paolo è stato battuto è stato lapidato quindi vedete la liberazione in che consiste tensione dio non è che siccome ci libera non permette e paolo dopo essere stato lapidato ha detto il signore mi ha liberato certo da dalla morte però è stato lapidato t'hanno mai menato per cristo t'hanno mai picchiato specialmente a una persona che non ha mai ricevuto scusate in modo di dire una pizza in faccia non mi viene in altro modo un pugno in faccia e raggiungi una certa età e ti danno te danno di santa ragione scusate la battuta di santa ragione è scioccante sapete e così via discorrendo quindi un conto è leggere le cose e gloria a dio dobbiamo leggerle perché la fede viene dall'udire l'udire viene dalla parola di dio ma poi sperimentare le cose e tutta altra situazione interessante quindi tutto questo per dire chi può dire domani faremo questo faremo quest'altro io non lo so io non so manco se ci arrivo a stasera e sarà quello che dio vorrà quindi nel mio cuore ci sono tutti questi video chissà se il signore ci darà la grazia di poterli concretizzare benissimo nell'amore che tutto questo si concretizza se il signore vorrà e vorrei fare un video improvvisato come nasce questo video ok questo video nasce ieri sera ieri sera ero in macchina spesso io quando o cammino o vado al lavoro a piedi o sto in macchina o magari la notte non dormo mi metto a pensare nascono così video e quindi ero in macchina che fra l'altro parlavo e mentre parlavo e mi parlavano voi lo sapete noi uomini spesso come dite voi sorelle la nostra mente non pone molta attenzione non sempre magari uno ti parla e tu stai fra le nuvole e bene mi parlavano io stavo fra le nuvole e pensavo e pensavo pensando pensando nasce questo video ho pensato a un qualcosa che tutto sommato è un classico però io poi da questo classico ci ho tirato fuori una vera e propria parabola che non mi era mai successo è un vero e proprio insegnamento che va un pochino oltre dal consueto ovvero il fuoco il fuoco di dio ok sappiamo tutti l'abc del fuoco di dio ma io l'ho portato insomma nel nel mio porvimento ho cominciato a tirare fuori alcune cose che effettivamente io personalmente non ci avevo mai pensato magari tu ci avrei già pensato e gloria a dio per questo però vogliamo un pochino esaminare insieme un grande mistero che si trova dietro al fuoco di dio tutto quello che diremo faremo leggeremo lo diremo lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che benedetto in eterno amen allora e vogliamo partire da ebrei 12 ebrei 12 a un certo punto c'è tutto tutto quanto il passo di ebrei bellissimo qui guardate l'ho letto l'ho letto poc'anzi e wow c'è veramente qui fratelli me se ci mettiamo a esaminare verso per verso frase per frase wow altro che serie comunque bypassiamo tutto perché sennò poi la mente se ne va se cominciamo a legge e sto video dura 40 ore allora non mi ricordo dove sta però fuoco eccolo qua a pensavo che stava a infatti mi ricordavo che stava alla fine allora è qui la lo scrittore ok che non sappiamo chi è comunque è lo spirito santo ci porta alla memoria un sa prova un episodio che è l'episodio del matan torah consegna della torah matan torah consegna torah consegna della torah e il monte sinai il monte che che non non si poteva non si poteva prendere non si poteva salire non si poteva cedere poi dirà lo scrittore no come 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 stato scosso qui il terreno come stata scossa la terra così saranno scossi anche i cieli e la storia si ripete sempre e così via discorrendo ora voi non siete venuti al monte che si toccava con mano al fuoco acceso acceso al turbo alla caleggine alla tempesta no e tutto questo ci porta un pochino alla storia di elia apro parentesi che in centro niente però se voi vi ricordate bene elia quando andò dove non doveva andare perché ebbe paura e la pagò cara e questo ha molto a che fare la paura quindi la mancanza di fede il fuoco di dio e il castigo di dio ecco perché dio non sopporta quando i credenti se c'è una cosa che dio odia è la mancanza di fede e la paura dio non piace dio però ha pazienza con ognuno di noi e quindi ecco perché gesù è stato sommo esempio in questo e gesù non ebbe mai paura gesù non venne mai meno ecco perché è una bestemmia vera e propria dire che gesù ebbe paura nel gezzemani perché lui la parola fatta carne il comandamento che ci ordina di non temere perché non dimentichiamo che il termine non temere è un comandamento ok non è che facoltativo stai meglio no 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 ora noi possiamo venire meno noi sì anche l'apostolo paolo ci fu un episodio a corinto già l'ho spiegato dove lui temette nonostante lui fu d'esempio il più grande apostolo nessuno sarà mai come lui però anche loro hanno sbagliato e hanno addirittura peccato non che sono stati dei peccatori però hanno commesso dei peccati tipo paolo si stava inorgogliendo pietro addirittura stava giudeizzando pietro addirittura il dio gli ordina ammazza e maggio no 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 come no ammazza e maggio no 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 ma che fai dici di no al tuo signore e così via discorrendo paolo ai corinti stava temendo tant'è che il signore infatti degli apostoli gli dice paolo ma non temere nessuno metterà le mani addosso di te quindi il non temere è un comandamento quindi noi uomini possiamo venir meno ma non dobbiamo venir meno dio piano piano ci porta e questo ci ricongiunge a un'altra storia che ci fa da esempio che è la storia di abramo ma questa è veramente un'altra storia e quindi il signore gesù quando stava nel gessemane dire che lui temette che ebbe paura e che pregò il padre che è scritto che quando lui pregava il padre il padre lo esaudiva sempre è scritto che quando lui pronunciava la parola era una parola perfetta una orazione perfetta sarebbe stato è l'equivalente asserire che gesù ebbe paura è l'equivalente di dire che gesù ebbe a chiedere un qualche cosa non conforme alla volontà di dio e che gesù ebbe a venir meno nel suo stesso comandamento lui che dice non temere e poi lui temette perché era un uomo e tutte ste perdonatemi vabbè fammi essere un pochino più cose che non stanno né in cielo né in terra stiamo insultando il signore stiamo bestemmiando il signore stiamo facendo del nostro dio perché gesù è dio un dio di paura e quant'altro solo perché era vero uomo che significa vero uomo non significa che ha peccato lui era vero uomo ma è stato l'unico che non ha mai peccato e quando ha pronunciato una orazione è sempre stata una orazione secondo il volere del padre infatti gesù nel gesemane stava morendo perché grumoli di sangue gli uscivano fuori dalla fronte e se lui moriva là l'opera espietrice se ne sarebbe andata e allora lui disse che questo calice passi da me perché non era quello il calice che doveva bere di gesù ma era il calice della croce alleluia e poi dirà agli altri apostoli voi berrete di questo calice c'è anche voi morirete tranne che poi giovanni ma questa è un'altra storia ok getsemane anzi scriviamolo bene ma scriviamolo all'ebraica come è venuta cosa così sto improvvisando eh fratelli amici e così via discorrendo quindi tutto questo ci porta al fuoco di dio e dio è fuoco ed è un fuoco consumante vedete sono partito da qua ok la quindi tornando a elia per chiudere quando elia che ebbe paura stava dove non doveva stare e attraversò il deserto e arrivò a quel luogo che prima passò non ora non mi ricordo la scaletta esatta quindi la dico come come posso ricordarla ci fu un terremoto ci fu una tempesta e poi non mi ricordo che altro e poi alla fine ci fu una un vento soffice questo ha più significati perché la parola di dio è infinita a parte quello che succede nella nostra vita quello che è successo nella stessa vita di elia quello che succederà nella vita del della chiesa di gesù cristo che prima avvengono determinate cose poi alla fine eccetera 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 ma lo stesso diciamo eh vangelo di gesù cristo che inizia dalla possiamo dire come discorso generale dalla genesi anche se comincia da fatti degli apostoli ma la storia diciamo eh della parola di dio inizia con un fuoco acceso se voi ricordate nell'antico testamento dio era un fuoco acceso non è che oggi non lo sia più era una caligine era una tempesta che spesso divorava il popolo di dio con la peste dio il suo fuoco ha divorato il suo popolo quando si è ribellato con la peste altre volte lo ha divorato con i suoi nemici cioè con i nemici di israele e gli ha mandato Nabucodonosor e così via discorrendo in questi ultimi giorni gli ultimi due giorni possiamo dire che dio resta tutto questo però è un vento soffice oggi capito ma c'è molto di più di tutto questo adesso c'ho essula io sto io c'ho un discorso in testa in questo discorso ho aperto questa parentesi perché stiamo nel verso 18 ci sta voi sapete cioè io già improvviso in più improvviso nell'improvvisazione addio ora vorrei chiudere perché quello che devo dire è a mio avviso molto importante quindi dio è un fuoco consumante mi fermo qua con i passi biblici potete vedere deuteronomio capitolo 4 e così via discorrendo è un fuoco consumante ma come tutti quanti i fuochi il fuoco consuma sì però può anche edificare secondo l'uso secondo come tutti i comporti con il fuoco ricordate a proposito di comportamento essodo capitolo 3 mi pare che essodo 3 essodo 3 dovrebbe essere dovrebbe essere essodo 3 no quando mosè è stato 3 mosè vide il pruno ardente sì fiamma di fuoco quindi il signore gli apparve in una fiamma di fuoco gli apparve il signore gesù cristo in una fiamma di fuoco quindi noi vediamo che mosè riceve delle istruzioni da parte del signore lo ripeto il signore direttamente gli dà delle istruzioni quindi abbiamo il fuoco che è dio perché dio è fuoco è anche un fuoco consumatore e quindi dio ti dà delle istruzioni direttamente perché tu possa come dire concretizzare il giusto comportamento il giusto atteggiamento mi è venuto in mente adesso di fare questo accostamento con il comportamento e con il comandamento non ci avevo mai pensato rivelazione indiretta ogni tanto le ricevo tutti quanti e quelli che predicano le ricevono e quindi riceve delle indicazioni perché quando hai a che fare con dio hai a che fare col fuoco e se hai a che fare col fuoco dirà appunto la parola di dio proverbi e quant'altro nessuno giocando col fuoco resterà appunto illeso quindi col fuoco non si gioca qualcun altro disse 300 anni fa col fuoco di questo mondo ci si può anche giocare vedi gioco ieri ma col fuoco del dell'inferno non ci si può giocare e io aggiungo figuriamoci col fuoco di dio quindi dio è fuoco e allora io ieri sera in macchina ieri sera sì in macchina stavo pensando a dio al fuoco e mi è venuta in mente questa grande similitudine parabola è vera ho concretizzato una parabola e ve la racconto a modo mio le parabole si trovano nella parola di dio gesù usava le parabole perché era non è che gesù come uomo ha inventato le parabole esistevano già prima che lui venisse incarnasse l'uomo ovviamente lui è l'artefice di tutto come dio ma come uomo quando lui è venuto qui sulla terra già esisteva questo modo di interloquire e era comune utilizzare le parabole per illustrare delle verità mi è venuta in mente così immaginati immaginati un pianeta ok in questo pianeta non c'è luce è tutto buio tutto buio c'è l'oscurità e in una sola parte del pianeta c'è un fuoco questo fuoco in qualche maniera pur essendo tutto buio intorno fa sì che ci possa essere vita in questo pianeta però lontano dal fuoco c'è buio pesto una persona che si trova lontana da questo fuoco chilometri migliaia di chilometri non vedrà mai questo fuoco è in vita grazie a questo fuoco ma non lo vede e quindi ci sono molte persone che si trovano lontano da questo fuoco sono in vita grazie a questo fuoco ma non lo vedono interessante vero poi c'è un altro tipo di persona altri tipi di persone sono delle persone che si avvicinano al fuoco e lo vedono e ne beneficiano perché dicono guarda il fuoco però sono molto lontane da questo fuoco e allora che cosa fanno queste persone? non sono né a Roma si dice né carne né pesce né si avvicinano e né si allontanano più di tanto stanno lì non stanno così lontane da non vederlo ma neanche così vicine da trovarne beneficio ma non finisce qua poi ci sono altri tipi di persone che invece si avvicinano ancora di più e si avvicinano a una buona distanza in questa distanza wow vedono la luce intorno a loro e che bello finalmente provano la luce di questo fuoco e provano un beneficio che gli altri non provano quelli che non lo vedono non provano o quelli che lo vedono da lontano non provano perché vedono tutto intorno buio e questa fiammicella questo fuoco che lo vedono da lontano tutto qui ma questi invece stanno vicino a tal punto che vedono questa luce però non stanno così vicino da provare il calore del fuoco alleluia vedono la luce hanno la luce ma non hanno il fuoco scusate il calore e allora ci sono altri tipi di persone che invece no c'è la luce ma ci deve essere anche il calore e allora si avvicinano a tal punto che provano anche il calore e quindi hanno la luce hanno il fuoco hanno la luce hanno il calore ma c'è ancora un altro tipo di persone che non solo si avvicinano così da provare il calore e vedere la luce ma vogliono usare questo fuoco e lo prendono e lo usano ci fanno del cibo ci cuociono del cibo cucinano del cibo mangiano di questo cibo e così crescono ma poi c'è ancora un altro tipo di persone coloro che fanno tutto questo ma poi tentano il fuoco e ci mettono la mano dentro perché sono stolti e si bruciano la mano e infine l'ultima categoria i peggio dei peggio sono quelli che fanno tutte queste cose ma non si limitano a mettere la mano dentro ma loro stessi vanno dentro a questo fuoco e vengono consumati dal fuoco bruciati dal fuoco uccisi dal fuoco tutto questo mi è venuto in mente ieri sera e sono rimasto a bocca aperta ora non mi metterò a leggere i passi a destra e a sinistra voglio farlo scorrevole chi studia con questo canale sa perfettamente cosa dice la Bibbia e quindi vi ricorderò quello che abbiamo trattato negli anni quelli che stanno così lontano dal fuoco neppur vederlo sono gli atei rappresentano gli atei quelli che dicono Dio non c'è e chi ti dà la vita ma Dio non c'è poi ci sono quegli altri che lo vedono da lontano molto da lontano ma non gli è sufficiente il vederlo da lontano non ne beneficiano perché vedono che c'è una fiammicella da lontano ma intorno di loro resta non solo il buio ma anche il freddo e quindi sono morti tutti costoro sono i religiosi siano cattolici siano evangelici siano testimoni del Genova siano buddhisti siano chi te pare interessante l'altro gruppo sono quelli che si avvicinano ancora di più e vedono la sua luce alleluia si trovano dentro la luce ma non sono così vicino da provare anche il calore e quindi hanno la luce hanno la lampada hanno la parola ma senza l'olio wow poi ci sono quelli che invece vanno oltre ovvero quelli di prima hanno una buona conoscenza una buona teoria della parola di Dio ma non hanno l'olio quelli invece che si avvicinano e provano trovano sia la luce vedono la luce e provano anche il calore sono coloro che hanno la luce la lampada ma anche l'olio dentro la lampada anche lo spirito santo anche il battesimo dello spirito santo come alcuni che vanno insegnando che loro avrebbero lo spirito santo il battesimo e non parlano lingue solo perché fanno dei frutti la gente sta bene si converte o fanno del bene agli altri ma in Matteo capitolo 7 è scritto che questi uomini predicavano facevano miracoli facevano del bene eppur non avevano dio non avevano lo spirito santo quanta gente fa del bene in mezzo anche lo stesso cattolicesimo che è una religione non da dio si fanno del bene sistemano anche famiglie materialmente parlando ma non hanno la verità ma state alla larga da costoro e poi purtroppo si inizia a entrare in un altro mondo sono coloro che dopo alcuni neanche quello però diversi dopo aver gustato le cose di dio il fuoco di dio la luce di dio il calore di dio lo spirito santo giocano col fuoco e ci mettono la mano dentro non fanno come fece mosè qui in esodo ce la vedete davanti capitolo 3 che ricevette dal signore delle indicazioni attento attento a come ti avvicini a me levati le scarpe attento a venire con le scarpe attento a venire cosa sono le scarpe mi è venuto in mente adesso non ci avevo mai pensato efesi capitolo 6 l'armatura del credente non ci avevo mai pensato alta rivelazione indiretta dio sta rivelando quindi vuole parlare calzati della preparazione dell'evangelo attento a metterti in ministeri che dio non ti ha chiamato a metterti a insegnare quando dio non ti ha chiamato a metterti a predicare come insegnante quando dio non ti ha chiamato oppure se dio ti ha chiamato a cambiare il messaggio o a omettere il messaggio a predicare questo sì questo no o addirittura a bestemmiare apostatare decretare tutto quello che si sta facendo oggi il mondo si parlava del mondo apostolico l'apostolo qua il profeta qua la dottrina della prosperità il kingdom now e ti metti a giocare col fuoco con dio con la sua parola il fuoco è dio la parola è dio ci metti la mano dentro e ti bruci fino ad arrivare alla massima follia perché un abisso ne chiama un altro che poi tu stesso ti farai a immagine e somiglianza di dio dirà dirai io sono io sono dio perché togli la parola e ti metti a posto della parola e quindi cadi dentro il fuoco vieni consumato dal fuoco neanche te ne accorgi poi l'anima tua ti viene ridomandata e ti trovi come il ricco e pulone che era un religioso ecco il mistero del fuoco questi sono i giorni profetizzati nella parola di dio e perché non leggerlo perché non leggerlo Matteo 25 questo lo dedico a tutti coloro che stanno aspettando un risveglio a livello mondiale io insegno smettete di aspettare un risveglio a livello mondiale non ci sarà secondo me piuttosto il risveglio ci deve essere a livello personale questo sì ma non deve venire da dio o bestemmia no fammi finire il risveglio da parte di dio viene per i miscredenti che li va e li va a cercare e li va a svegliare ma quando uno è nato di nuovo ebrei sei ha gustato le potenze le potenze del regno a venire lo spirito santo e quant'altro se si è addormentato la parola dice risvegliati tu che dormi tu ti devi risvegliare tu e poi che significa essere sveglio c'è tanta gente io torno a ripeterlo ma lo dico con massimo rispetto mi viene da sorridere perché so svegli e dicono signore svegliami preghi sei un santo uomo di dio fai la volontà di dio ti santifichi più 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 sveglio di te non dire caso mai dimmi dacci di più vogliamo di più amen questo sempre ma non dire che stai dormendo ma se c'è qualcuno che sta dormendo risvegliati tu e a proposito del risveglio a livello mondiale la scrittura non dice questo secondo me spero di sbagliarmi il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali presero le loro lampade avevano tutti le lampade uscirono fuori all'incontro allo sposo tutti aspettavano il rapimento della chiesa e cinque di queste erano avvedute cinque erano passe le passe presero le loro lampade quindi tutte avevano le lampade ma queste erano senza olio e le avvedute avevano preso l'olio e insieme le loro lampade le lampade preso secco dell'olio queste avevano l'olio tardando lo sposo tutte si addormentarono alla fine dei tempi la chiesa si addormenterà tutta ora sulla mezzanotte si fece un grito e disse ecco lo sposo come dire ecco il rapimento della chiesa ecco i segni del mondo ecco quello che sta succedendo state vedendo non entro nello specifico per motivi di tempo allora tutte si destarono si acconciarono e le passe dissero alle avvedute dateci dell'olio e le avvedute le rispossero no lo faremo che talora non bene sia sai per noi e per voi andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene quando è scritto che le avvedute pressero dell'olio con le loro lampade poi è scritto che arrivò la mezzanotte e quindi finché non arrivò la mezzanotte loro camparono con quell'olio quando arrivò la mezzanotte l'olio si consuma era rimasto non era completamente piena quindi alto che il risveglio e poi quando loro gli chiesero dateci un po' di olio ma se vediamo quello che ci è rimasto non basterà né per noi né per voi andate e comprate a quelli che lo vendono ovviamente al di là delle mille interpretazioni venite e comprate gratuitamente senza pagare senza danari lo disse il Signore in Isaia lo Spirito Santo è colui che dà dell'olio come si compra questo olio con la fede la fede è tra le mille cose credere in Dio credere e fare la sua volontà e santificazione e pace senza la quale nessuno vedrà il Signore ebrei 12 mentre andavano a comprarne indugiano domani vado in comunità oggi oggi no domani prego domani mi santifico domani faccio la volontà di Dio domani crederò domani accetto Gesù domani mi battezzo nell'acqua domani 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 significa mai e poi la porta che è Cristo fu serrata bene cari amici questo è il mistero del fuoco come mi è venuto questo è stato il video senza starci troppo a girare intorno potrei concludere con Timotio prima Timotio capitolo secondo Timotio 2 1 dal 6 all'8 quando dice ravviva il dono di Dio che hai in te Timotio Timotio era un giovane d'età non nella fede ma sì d'età e Timotio come giovane d'età ci insegna che quando sei giovane d'età devi ascoltare devi essere guidato da chi oltre ad essere anziano nella fede come te e anche anziano d'età ecco perché lo spirito santo mise a Timotio un anziano d'età oltre che nella fede Paolo che lo guidava lo consigliava e non gli faceva fare le capriole come molti giovani d'età e poi non parliamo della fede si mettono a fare oggi nel web e altrove e addirittura alcuni perché mal ammaestrati gli viene insegnato da altri apostati che sana dottrina lasciamo perde che con due tre annetti o di scuola biblica o di non so che cosa diventi pastore attenzione a giocare col fuoco pastore non si diventa con due tre annetti ok ci vogliono tantissimi anni prima di entrare nel ministerio prima se Dio ti guida a portare qualche passo qualche cosa sotto la supervisione degli anziani consigli riprensioni e noi stessi anziani d'età e quant'altro a sua volta ci correggiamo gli uni gli altri perché io vengo corretto attenzione a giocare col fuoco perché Matteo 25 è dietro l'angolo la tromba suona attenzione a giocare col fuoco non è adesso mi metto con la Bibbia a mano da 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 non è così che funziona limitati a fare quello che lo Spirito Santo ti dice di fare e attieniti al corpo di Cristo costituito dallo stesso Spirito Santo apostoli cioè missionari dottori pastori evangelisti profeti per il perfezionamento della Chiesa ma quelli sono tutti apostati benissimo quando trovi un apostato avatteli finché non trovi quello giusto o forse la parola di Dio mente ha fallito la parola di Dio non c'è più la Chiesa di Gesù Cristo non ci sono più ministeriati attenzione dice il Signore nella sua parola messaggio duro come deresse la parola di Dio con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti grazie per essere stati con noi io lo rendo pubblico pubblico se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma e non t'offenni che Gesù ti ama ti saluto Dio ti benedica Maranatha Shalom